Ciao a tutti che sono stati e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Siamo tornati in 24 minigames al Natale Allora, andiamo a vedere quali minigame ci propinerà oggi questa mappa Devo dire che quelli che ci sono stati fino ad ora sono stati molto carini A parte forse uno che era bucato che era quello lì degli pupazzi di neve Che tra l'altro erano proprio dei primi Quest'ultimo, quello dello scorso episodio, l'ice block Era molto carino, però forse era troppo carino per far parte di una serie di minigames di questo tipo Comunque, bando alle ciance e ciancio alle bambibbane Andiamo a scrivere su questo pezzo di carta il codice per il minigame numero 6 Che è quello che andremo a inserire all'interno del dropper E che in teoria dovrebbe sbloccarmi il numero 6, il numero 6 Ah, è questo qui? No, è questo qui Ok, si chiama Snowman Building E qualcosa mi dice che so già cosa devo fare Allora, devo rompere la neve con la mia pala Prendere le zucche con la mia ascia E costruire più pupazzi di neve possibile in 90 secondi Quindi sarà proprio una prova a tempo di quelle più selvagge possibile Anzi, no, non più possibile, devo proprio costruirne 15 Allora, prepariamoci Anche psicologicamente 3, 2, 1 E andiamo Ok, devo prendere la lana La cosa qui, scherzavo Allora, dammi tutta la cosa che... Dammi, 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 dammi Ho 80 secondi, non sono un cazzo 80 secondi Io direi, iniziamo a prendere anche le cose Dove cazzo sono le Sea Lantern, tra l'altro? Ok, sono qui 1, 2, 3 1, 2 e 3 1, 2 e 3 Ok, rompi, rompi cacchio Rompi Ok, ho 60 secondi ragazzi Ho già perso mezzo minuto a fare nulla Fammi rompere, rompi, 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 rompi Sono 12 Ok, devo scavare tutto praticamente Cioè, se scavo tutto forse riesco 46 secondi Raga, sono io oltre e poi sto passando un po' troppo velocemente Eh, quando registro il video di solito non ci metto mai così poco a far passare un minuto di video Ok, ok, ok Siamo a 34 Quanti me ne servono? Ah, ma micchia, ce ne ho, ce ne ho, ce ne ho Qua c'era il trick, nel senso Ti dà più lana, più roba di quante te ne serve Levati, cacchio Cazzo, 20 secondi raga Levati Dai Via, via Manca poco tempo Manca poco tempo Poco, poco Poco, poco Quanto non... No, cazzo, non fate i 16, non fate i 16 Ok, ho vinto Io stavo andando a manetta, ti giuro, non c'avevo l'ansietta Non sapevo se è riuscito o no a fare il minigame Comunque, abbiamo vinto Abbiamo vinto, questo era molto easy Ed è anche questo il motivo per cui non posso fare come alcuni di voi mi hanno suggerito Che in realtà era un'ottima idea All'inizio, ed è la stessa idea che ho avuto io Fare, cioè, un minigame al giorno Non si può fare perchè ci sono anche questi minigame che durano 3 minuti Io se carico un video di 3 minuti Non mi dice niente Un video di 3 minuti a meno che non sia un video strutturato, tipo una canzone O un video proprio studiato, un cortometraggio Non vale nulla Andiamo a incollare subito il numero 7 Poi, oddio, magari sono miei opinioni, magari potrei anche cambiare idea Però, per il momento, caricare un video di 3 minuti mi sembra poco Insomma, carino Allora, numero, 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 numero 6 siamo? No, numero 7 siamo Siamo al numero 7 ed è questo, se non sbaglio Freezing falls, oh mamma mia Freezing falls, qualcosa mi dice che le freezing falls Porca puttana, una volta che salti sei fottuto Dammi il jump boost numero 1, fammi andare qua sopra Allora, freezing falls, qualcosa proprio mi dice che questo è tipo un dropper E' presente il the dropper, quello che ho fatto tantissime volte Ho fatto una mappa bellissima di the dropper Che è andata benissimo sul canale, vi è piaciuta tantissimo Anche a me è piaciuta tantissimo Stessa roba Devi raggiungere la parte inferiore del livello E usare l'ice shard Se muori puoi provare il livello di nuovo Ci sono 3 livelli Usa l'ice shard cliccando col destro Ok Ah ok L'ice shard mi rallenta in aria Questa non l'avevo capito Posso startare subito Livello numero 1 Ho un ice shard e non ho paura di usarla Penso si dovrebbe chiamare questo video Anche se ti dirò Secondo me Aaaaaaah Non, secondo me riuscirei anche a non usarla Ti dico da vedere, invece no, invece no Voglia, è più difficile del previsto Questo qui, posso rallentare per andare qui No, ok Eccolo, eccolo, eccolo Grande Grande Ce l'ho fatta Ok Se muori ora mi incazzo Ok Passiamo al prossimo livello Questo è il numero 2 Speriamo che sia, oh mio dio, più semplice Allora, secondo me Questo potrebbe essere davvero più semplice Qui è solamente una questione di beccare il buco esatto E si, non ridete E' una questione di centrare il buco Ecco, peccato che saltino in maniera incredibile sto stronzo Allora, a parte le nuvole che disattiverei Aspetta, fammi disattivare Scendere Ok, allora L'acqua è al centro Quindi, se devo cadere, devo cadere tipo Qui Ah, ma qua c'è C'è un bel corridoio tutto bello, bello dritto Ok, no raga, è molto più complicato del previsto Il fatto è che devi beccarlo proprio Centrale Se no, eh, rimbalzi Va in cielo Che bello Non è che c'è un easter egg Qua si può fare qualcosa No, non mi sembra Oh mio dio, ho sbagliato, scusa Bello che non riesco neanche a cadere decentemente Per capire dove Niente Non ce la faccio proprio Incredibile Vabbiamo a saltare di qua al lato Prima al lato mi ha portato fortuna Io l'acqua la vedo sempre lì al lato E poi l'ho fatto Oh Merda raga Merda E' qua sotto Ci sono gli alberi raga Come faccio io a passare attraverso gli alberi Vai 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 Grande 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 caso Ca-ca-ca-caso Grande il caso Perchè per caso Ho vinto questo livello Oh mio dio No 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 raga no Questo è proprio da infartino Cioè si vede Si vede Si vede Alla prima Cioè alla seconda Cioè quasi Alla grande Vittoria Vittoria Grande così Grande così Boia mamma mia Che cos'è Vai andiamo e prendiamo anche il numero 8 Alla grande oggi Andiamo tantissimo Allora prendi il pezzo di carta Scrivici Il numerino E fai così Perfetto Il numero 8 che è questo qui tra l'altro E si tratta Snowball throwing Ragazzi Questa sono una bestia Sono bravissimo io a lanciare le palle di neve Minecraft Nella vita reale un po' meno Allora lancia le palle di neve agli snowman Ai pupazzi di neve Prendi 110 punti o più In single player E niente Devi colpire le cose Se ne missi troppo Cioè se non picchi nulla Ti levano punti Ok Qua c'è l'omino Io direi possiamo partire alla grande Start back to lobby Io direi partiamo Tanto non c'è un limite di tempo Devo semplicemente colpire i nostri amici Guarda qui Qua ce n'è uno E ho preso Un punto Ah ma perché loro camminano Ok Quindi io devo fare in modo di prenderli Prima che loro arrivino da altre parti E ovviamente non devo missarli Perché se li misso poi Sono kaiser Sono kaiser amari Come si dice in germania Guarda io ho punti Ne sto facendo un bel po' Aspetta Ud è che devo prendere 110 snowman Non sono pochi Grande mila di suri Lo chiamavano legolas Ok sono a 30 Ok mi stanno muovendo troppi per i miei gusti In teoria dovrei riuscire A fare un botto Di kill Invece Un botto ne muoio ne basta Prendiamo quello là in fondo Che lui è una costante praticamente Ok spariamo a caso E forse lanciare così non è il massimo Mamma mia raga Cecchino lo chiamavano Altro che american sniper Suri sniper Oh buongiorno Volete morire un po' Caccia al pupazzo di neve sta roba Mori un po' Ok doppio lì Due là in fondo Ah sono due là in fondo Alla grande Siamo a 103 Ho perso Ma come Riprovo Vieni qua Ok Finished Ho perso ancora Totale 74 Su 110 Faccio schifo Mi hai levato i punti Ma come se avessi vinto Perché è lui che non sa contare i punti Strozo Andiamo a prendere l'ultimo minigames di oggi Mettiamo qua il paper Mettiamo così Mettiamo così Questo lo mettiamo dentro Ok Il numero 9 Che è questo Uno di questi dovrebbe essere Forse è questo Lucky presents Potrebbe essere Salve Cosa devo fare? Ok lucky presents Che figata Praticamente devo spaccare I regali I regali mi danno cose In teoria I regali mi danno appunto delle cose Mi posso dare altri regali E con questi regali Io devo fare Esattamente Quello che si fa Con i lucky block Di solito Cioè devo farmi un'armatura Devo farmi un'armatura Devo farmi delle armi E poi Mortacci vostra Oh mi sta dando un botto di carbone Guardando il lato positivo Che potevo farmi un botto di torce Ok Tutto buio ora Uh diamanti Bello Ora mi serve solamente del legno Sai com'è? Per fare Una crafting table Qualcosa del genere Oddio Non capisce un kaiser Oddio Ciao Non mi ammazzate per favore Devo ancora prendere tutta la roba Se mi ammazzate mi incacchio Raga Non capisco nulla C'è la nausea Oddio che ansia È morto Sono morto Vaffanga morite Chi vese in gala È morite un po' Dimmi te se devo ammazzare gli scheletri con gli stick Sei diventato babbo natale Ma che figata Protection 4 Ok che sono di pelle però Figo Ho una spada Non ho paura di usarla Ho delle golden apple Ho dei diamanti Che non posso usare Direi che sono messi piuttosto bene Ho anche del ferro Che non posso usare Perché non ho il piccone Alla grandissima raga Alla grandissima Ok Eccoci Io stavo cazzeggiando su facebook C'è un pollo Su un cos Mori Ok questa è la prima wave Sono cinque wave E io ho solamente una spada di pietra Per ammazzare tutti Il problema maggiore al momento è quel piccignacolo Perché il piccignacolo corre Ok la prima wave è andata Mangiamo una mela d'oro Perché qui la gente c'ha pure la spada ora E non mi piace questa cosa C'hanno una spada di ferro La spada più potente della mia C'è vero che io c'ho sharpness Però comunque C'è arrivano i zombie che c'hanno il diamante Dai per favore Anche se ragazzi Io potrei fare una cosa Posso tipo fare Fare tipo una cosa così No Non posso pensare all'ossidiana Altrimenti mi mettevo sempre Eeeh la madonna No No Brutto Brutto questo Non mi piace Non mi piace L'arco incantato Gli scheletri Brutta combo Brutta combo Mangia una mela d'oro Perché altrimenti qui muoro Ho fatto anche la rima Allora il problema è che vengo sballottolato A destra la manca Io non so manco come fare Ok Siamo di qua Anche se così siamo solamente più visibili Grande Suri Sei un genio SPARTA Sono morto Wave number 4 Ma dove cazzo sono Ma che cazzo sono finito Ma oh ma che cazzo Se io vado qui però mi fa riniziare Cazzo mi fa riniziare Ah no mi fa riniziare un cazzo Ma la domanda è Ammazzate questi due scheletri Che sono rimasti Quest'unico scheletro che è rimasto Mi farà la prossima wave O no La domanda La risposta è no Ragazzi Per questo video è tutto Purtroppo abbiamo fallito il minigame E non c'è un modo per resettarlo Da quanto ho capito Io vi saluto Io vi saluto Pensavo ci fosse qualcosa qua dentro Ciao Tutti Tutti